Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Giulio Viviani. Il Papa Francesco ha ribadito fin dai primi giorni la sua volontà di una Chiesa povera e con i poveri, impegnata quindi a usare anche dei mezzi che essa ha e alla quale tutti noi dobbiamo contribuire per fare del bene. In questa Domenica l'Evangelista Luca, che è sempre definito quasi pittore, descrittore della bontà di Gesù, ci presenta un Gesù molto deciso. A un certo punto il Vangelo ci ricorda che Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme. Che cosa vuol dire? Vuol dire ormai per Gesù chiaramente l'impegno a donare la sua vita per noi. Gerusalemme significa per Gesù la Pasqua, la scelta decisiva. Aveva fatto tanti miracoli belli, buoni soprattutto, verso gli ammalati, verso i poveri, ed ora vuol dare tutto. Prende, dice San Luca, con una certa serietà, la ferma decisione. Non si tirerà indietro Gesù, anche se sarà faticoso, come quel giorno nell'orto degli ulivi. Commenta l'Evangelista, infatti, stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato elevato in alto, cioè sulla croce, nel dono supremo di sé, nel suo amore. L'invito che ci viene in questa domenica è quello ribadito anche dalla prima lettura, dove anche il profeta Ediseo decisamente segue il Signore, segue Dio, segue la parola di Dio e abbandona tutto il resto. Una decisione, ci dice San Paolo, che siamo invitati a prendere anche noi, nel contesto della nostra situazione di vita. Un invito, quello che San Paolo fa, a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Quella scelta fondamentale che ognuno di noi è chiamato a fare nella propria vita e da rinnovare continuamente, va sempre fatta nella luce dello Spirito Santo, lasciandoci guidare da Lui. C'è una meta, c'è una Gerusalemme, c'è una Pasqua che attende anche noi, in tante situazioni di vita, in tante persone, in tante scelte. Ma anche noi siamo chiamati a farla decisamente, perché il Signore, come ripetiamo in questa domenica nel Salmo Respongioriale, è il nostro unico bene. Vogliamo veramente anche noi seguirlo con piena decisione. Buona domenica. Grazie.